dall'angelo secondo marco in quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato ed egli disse loro venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po' erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte molti però li videro partire e capirono e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero sceso dalla barca egli vide una grande folla ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose scesso dalla barca egli vide una grande folla ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose in questa breve frase l'evangelista ci offre un flash di singolare intensità fotografando gli occhi del divino maestro e il suo insegnamento osserviamo tre verbi di questo fotogramma vedere avere compassione insegnare gli possiamo chiamare i verbi del pastore lo sguardo di gesù non è uno sguardo neutro o peggio freddo e distaccato perché gesù guarda sempre con gli occhi del cuore il suo cuore è così tenero e pieno di compassione che sa cogliere i bisogni anche più nascosti delle persone inoltre la sua compassione non indica semplicemente una reazione emotiva di fronte a una situazione di disagio della gente ma è molto di più è l'attitudine e la predisposizione di dio verso l'uomo e la sua storia gesù appare come la realizzazione della sollecitudine e della premura di dio per il suo popolo grazie a tutti